Bene amici, mi trovo a bordo del Canados Gladiator 63, uno scafo di 63 piedi con una larghezza di 4,70 metri motorizzato con due motori Volvo D13 da 1000 CV ognuno e trasmissione Jolly Drive con delicati superficie. Noi adesso ci apprestiamo a effettuare una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre lasciate un like a questo video e commentate con la vostra opinione, ma soprattutto lasciate un like alla pagina del tech sintetico Plasdeck che è grazie a loro che io posso visitare questa barca. Scopriamola insieme! Iniziamo la passeggiata da Poppa dove troviamo una flancetta comoda e ampia dove poter passeggiare e rilassarsi durante le soste in rada e una comoda passerella scomparsa che ci permette quindi l'accesso al pontile. L'ingresso in pozzetto avviene sia da lato di dritta che da quello di sinistra e qui troviamo già il garage per il tender perché questa zona qui può essere sollevata per dare accesso a un tender anche di 3 metri. Salendo questi gradini troviamo al centro un enorme prendisole per 4 persone e poco più avanti la dinette di Poppa, dinette con divanetto a forma DC e tavolino. La disposizione degli spazi è ottima perché guardate qui riusciamo a passeggiare senza nessun problema. Qui al centro troviamo l'accesso per la sala macchine mentre per grandi lavori è possibile sollevare l'intera porzione perché vedete questa zona qui si solleva del tutto e quindi è molto più facile accedere alla sala macchine. Anteriormente invece si trova la cucina esterna con piano cottura induzione unica soluzione fondita dal cantiere e grill mentre sull'altro ripiano si trova il lavello con piano di appoggio. In basso si trova l'ice maker, doppio frigorifero a battente da un lato e dall'altro mentre qui si trovano dei comodi sportelli dove poter alloggiare materiali. Prima di accedere alla zona della plancia di comando vi mostro anche la capacità del rivestimento Plasdeck che troviamo qui installato a bordo per personalizzare ogni aspetto. Qui c'è il simbolo del cantiere Kanados totalmente realizzato in contrasto in abbinamento con le fughe. Ovviamente il piano di calpestivo è antiscivolo, antimacchia e non scalda neanche sotto al sole soprattutto in questa colorazione chiara. Adesso vi porto nella plancia di comando perché qui abbiamo un doppio display ben protetti al di sotto dell'artop che è installato e che occupa tutta la porzione esterna dell'imbarcazione lasciando libero il prendisole di poppa. E vediamo che c'è una tripla postazione singola con bolsa irregolabile, in questo modo possiamo scegliere la posizione più comoda. E quando sono seduto sul sedile centrale ho il gradino in basso dove poter poggiare i piedi, doppio display davanti a me per poter monitorare tutta la navigazione, computerino centrale con videocamera e tutti i bottoni della plancia di comando che ci consentono quindi di avere un controllo totale. Le trasmissioni Jolly Drive hanno anche la regolazione automatica, in questo modo possiamo dedicarci solo alla navigazione mentre l'assetto sarà regolato automaticamente tramite software. In alto ci sono altri controlli accessori di tutti gli strumenti di bordo. La larghezza del passo avanti è costante su tutto il perimetro dell'imbarcazione, qui abbiamo un grandissimo prendisole, comodissimo per tante persone, segue anche l'ergonomia perché ha una curvatura, vedete, che ci permette quindi di rilassarci quando siamo a bordo. C'è un ulteriore divanetto per 5 posti rivolto verso prua. Qui all'interno è installato anche il vericello, mentre qui davanti a noi abbiamo il winch che ci aiuta a tendere le trappe senza dover faticare eccessivamente. Tornando verso Poppa vi mostro anche l'artop, guardate qui la vetrata è eccezionale, ci ripara dal vento, mentre all'esterno è tutto open, quindi possiamo definire l'imbarcazione open space. Mi dicevano in cantiere che è studiata prettamente per le uscite quotidiane come dei cruiser, però adesso entriamo in cabina e vi mostro l'allestimento interno. Qui c'è un ulteriore sdraio, una chaise longue molto comoda anche per chi ama rilassarsi, ma ben protetto dal vento perché è riparato dalle vetrate su tutti i lati. Sul lato di sinistra dell'imbarcazione si trova la botola all'interno della quale è inserita la cabina comandante o marinaio. E qui abbiamo una cucetta con un letto singolo e un WC in fondo alla cabina. L'accesso in cabina è centrale, ci sono i gradini in carbonio, tutto ciò che vedete qui con la trama effetto carbonio è carbonio vero, quindi ottimo lavoro da parte del cantiere sulla scelta dei materiali che ovviamente garantisce performance e peso molto ridotto, quindi agevoliamo i consumi sotto tutti gli aspetti senza rinunciare alla navigazione. Qui c'è una dinette con divanetto e tavolino, vetrate ampissime per assicurarci la luminosità, televisore sul lato di sinistra, qui ci sono dei mobili con degli sportelli e accediamo alla cabina ospiti. Cabina ospiti che è installata a prua con letto matrimoniale, ovviamente anche qui tanto spazio per potersi muovere, vetrate vista mare e bagno in condivisione con la dinette, quindi è uno spazio comune. E qui abbiamo il WC, il lavabo, sportellino in basso e doccia con cabina separata. Qui, anche qui vedete tutto carbonio e immancabile finestra per garantire luminosità. Dal bagno ci spostiamo verso la cabina armatoriale, ma vorrei prima farvi vedere l'altezza incredibile presente qui all'interno. Io non riesco a toccare il cielo e il cantiere ha fatto un ottimo lavoro perché avendo una murata molto alta la comodità è incredibile qui in cabina. Cabina armatoriale, vi dicevo, con specchio frontale e letto matrimoniale, vetrata da un lato e dall'altro con piccolo letto aggiuntivo per eventuali bambini, mentre il bagno è con cabina separata. E qui troviamo il WC, il lavabo, vetrata e cabina doccia separata. E quindi cari amici, questo è il Cannatos Gladiator 63. Come sempre, se il video vi è piaciuto, invito a iscrivervi al mio canale YouTube e alla mia pagina Facebook. Lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate, ma soprattutto lasciate un like alla pagina del Tech Sintetico Plasdeck, che è grazie a loro che abbiamo potuto visitare questa barca. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale. Grazie a tutti.